Salve a tutti ragazzi sono Zedawillix, oggi sono qui con l'ultima rapina in banca e oggi siamo sempre in live Dobbiamo fare il colpo alla Pacific Standard che sarebbe la banca Dove ho anche girato un cortometraggio con la banca aperta vicino a quella zona simile ad Hollywood Penso che molti di voi abbiate presente Questa appunto è l'ultima rapina in banca però su Next Gen Su Old Gen c'è un'altra e sicuramente la registrerò ragazzi Quindi registrerò anche quella Dopodiché abbiamo finito questa magnifica serie Direi che possiamo cominciare subito Vi ricordo sempre di lasciare un piace, ci vuole una seconda di due secondi Inoltre iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto Well, you all look good How do I look? Do I look like a model? Like I work at Pekka Woods? Like a regular dreamboat? Well, we all love banks Especially the big ones that take big risks Because they just know that if they went under we'd all be dead Too big to fail? Great idea! Let's put it to the test This is a little something I came up with I like to call it bank robbing with a social agenda If you will It's something I tell myself so I can get some sleep at night Anyway, those overly leveraged turds at Pacific Standard Bank They are going to be hit at their flagship branch How are we going to do that? Well, it's a little complicated But there are some trucks that I need you to photograph One of those trucks has a built-in transponder And we need our transponder to blip out a don't explode signal To the dye packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal Get it? All right, don't worry about it Just photograph the trucks and I'll tell you which one to hit Once we've done that, we'll need to have the transponder programmed to Pacific Standard's frequency Now my signals expert, Avi Schwartzman, he's been on the run for years You know, avoiding people Hold up somewhere in the middle of nowhere near North Chumash You know, you go up there, you make nice And you bring the device back And then I will brief you on the rest All right, I've got the wall, I've run the numbers against their database And tell you which van you need to steal All right, we've done this All right, perfect All right, guys, for those who haven't understood what we need to do The navigator, obviously, has to be guided by the road Dobbiamo beccare uno di quei furgoni che assomigliano a quei furgoni di merda delle poste italiane E lui, praticamente, il navigatore deve fare la foto con il telefono della targa Semplicemente così Trovato, ecco un altro Vai Et voilà Metti subito la targa Ok, manca un'ultima targa Una missione abbastanza tranquilla per ora Bam Io tengo, cerco di tenere la scia Abbiamo finito quasi, ragazzi, eh Vai No, dobbiamo aspettare che Lester ci dica Aspetta, caro Lester, ci aspetta Aspetta Bingo, ho trovato il nostro guy Let me prendere la locazione È questo Ah, è questo Boh, perfetto Bravo, bravo Ma chi è che sta guidando? Si è sparato in testa? Ma che cazzo Eh, non è morto No, no, no Purtroppo no Andiamo, vedo io Andiamo, vedo io 5 stelle 5 stelle Ok, ok LOL Allora, quindi Ok, quindi, raga Bisogna nascondere Questo furgone Eh, però non posso Non si può mai seminare Mai seminare Purtroppo non si può mai seminare Mai Quindi bisogna fare come ha detto lui Allora, aspettate Nascondere Ah Ok Anche qui, anche qui Muovetevi Fate attenzione Fate attenzione Copritevi, copritevi, copritevi Copritevi giù Eh, vabbò A me ancora no Ok Va buono, va buono Va, va, scappa da solo Merda, merda Non mi ha visto Non mi hanno visto No, mi hanno visto Vaffanculo Strozi di merda Cazzo Vai, seminata la polizia Manca il furgone Bisogna aspettare I nostri compagni Sì Ok Prima missione finita Finalmente sto furgone È arrivato Abbiamo avuto alcuni problemi Con la fogna Però Tutto quanto è stato risolto Questa è la cosa? Transponder deve essere qui Sì Sì Questo è il modello Ok, quindi ragazzi Ok, eccoci Qui nella seconda missione Stavolta bisogna portare il trasponder A questo Pescatore Non lo so Questo qui che vedete Nella Nell'anteprima E poi deve fare Due, tre puttanate Da hacker Dai, cominciamo Ok Ma bisogna guidare tanto? Io l'ho invitato Mi sa che lo devo rinvitare ancora Mannaggia però Anche i server Cioè io pago pure Per questi server di merda Ora capivo quello della Rockstar Va bene Ma questi qua sono del PlayStation Network Cazzo Pago pure Pago Vaffanculo Vabbè Comunque ti sento Porco Oh Mannaggia Station Network Oh Alle Che cazzo sta a fare? Vabbò Andiamo Bellissimo tuffo Oddio Ma che cazzo Ma che Ma che Ma cosa Ma da dove compare questo scemo? Ma questo qua è comparso Sì, sì Ma che Ma che cazzo Lui è il nuovo cinese Oddio Ma che Cazzo Secondo me Lui è il nuovo cinese Che porta sfiga Ma cioè È comparso da nulla Da Da Ma che cazzo 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 Sì Stati Uniti Un World at War No mi ricordavo Mi ricordavo un World at War Una cosa Simile Che tipo Sbarchi su un'isola Poi trovi tutti i giapponesi Che ti attaccano Gioco epico Andiamo andiamo Oddio Tutti quanti che si coprono Mannaggia A te Mannaggia Non è che c'hanno l'ostaggio Occhio Questo giubbotto Sì sì Occhio Anche di fuori Da lì Grandissimo hacker Protetto E andiamo Ultimo Tac Andiamo No ancora Ancora Questo scemo qua Morgio Morgio Sì infatti Oddio Oddio Ma che cazzo Ma che cazzo Corri Ma io Oddio Oddio Devo guidare io Devo guidare io Regà Ok andiamo Ah vedi Seguirà a piedi Nei veicoli Che ti non ti Tavolta Ok andiamo Allora E si attracca Ok Attracchiamo Copritemi Mi raccomando Chiamo Un veicolo personale Andiamo Perfetto Perfetto Andiamo 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 Ci siamo Sali un po Dai Vado con te lento Dai Che cazzo fa Cammina Che cazzo fa Oh Ma che Ma ah perché Perché non Eh sta a seguire L'altro Sta a seguire Entra tu Sembra un cagnolino Porca troia Ti giuro Entra Entra con te Ok vai L'importante è quello Andiamo Regà Sì sì andiamo Andiamo 5 minuti Cazzo 5 chilometri 5 minuti Per sto finocchio Del cazzo Speriamo No occhio 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 Accelera 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 Ufff Dai manca poco No Gira Gira Fai un'inversione Strana Fai un'inversione Strana Via 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 Porca puttana No Bella raga Lascia Lasciaci sta merda Lasciaci sta merda Abbiamo seminato Sti coglioni Vaffanculo Red score del cazzo Fili di puttana Dio Madonna Cazzo Bellissimo Perché sono arrivati dopo Io non ho trovato nessuno Bellissimo Non so perché Comunque Sono arrivato Finalmente Dovrebbe essere completata Sta missione Mannaggia Sto scemo Ci ha fatto perdere 10 minuti Della nostra vita Lo ringraziamo E adesso Via dai coglioni Oh Sei un coppia? Non un coppia Sto aiutando Lester Hai fatto? Cosa? L'ho fatto Non ho la frequenza Stata di Stata di Stata Non ho i miei strumenti Non è così conveniente Ho alcuni strumenti Vieni Lester Siamo tornati al tuo posto E non ti preoccupi Il trasponder Sarebbe pronto Per il lavoro Oh 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 Iscriviti al nostro canale Grazie per la visione!